come ai pastori anche l'angelo annuncia a noi questa grande notizia vi annuncio una grande gioia è nato per voi un salvatore gesù è venuto sulla terra nella più grande povertà così ci insegna che la vera grandezza è spesso nascosta nelle cose cui diamo poca importanza l'onnipotente si veste di umiltà e diventa uno di noi ecco la grande verità che ci porta il bambino gesù offri 10-15 minuti del tuo tempo per adorare il piccolo gesù deposto nel presepe della tua chiesa